ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale youtube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una meravigliosa pinza romana. L'impasto è fatto a mano ed idratato all'80% ma è facilmente gestibile, è davvero alla portata di tutti. La pinza è eccezionale, digeribile, ha una crosta croccante e una mollica soffice ed alveolata. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti per preparare la nostra pinza. Abbiamo bisogno di farina per pinza, la mia ha 13,5 grammi di proteine e la farina per pinza potete trovarla in tutti i supermercati. Lievito di birra fresco, olio extravergine di oliva, sale e acqua fredda di frigorifero. Tutti i pesi li trovate come al solito in info box sotto il video. Verso un pochino di acqua presa dal peso totale nel contenitore del sale. Ora lo faccio sciogliere con un cucchiaino e lo lascio da parte. Adesso aggiungiamo il lievito di birra nel contenitore dell'acqua fredda e anche l'olio. e facciamo sciogliere il lievito con l'aiuto di una spatolina. Il lievito è ben sciolto quindi possiamo versare acqua, lievito e olio nella ciotola della farina. Lavoriamo con una spatola. Lavoriamo con un'alto di una spatola. Lavoriamo con un'alto di una spatola. Lavoriamo con un'alto di un'alto di un pochino e un'alto di un pochino. E oi sei quocco. tutta la lavorazione a mano, ma se vorrete potrete utilizzare anche l'impastatrice. La farina è stata assorbita e adesso possiamo aggiungere l'acqua con il sale. Continuiamo a lavorare con la spatolina. Questo pur essendo un impasto molto idratato è semplice da gestire. E ora ci fermiamo, copro la mia ciotola con un piatto e porto l'impasto in frigo a riposare per 30 minuti. Dopo 30 minuti di riposo in frigo facciamo il primo giro di pieghe in ciotola. Ci bagniamo la mano con acqua, prendiamo l'impasto, lo tiriamo e lo pieghiamo. Due giri sono sufficienti. Copriamo di nuovo la ciotola con il piatto e la portiamo ancora in frigo per 30 minuti. siamo al secondo giro di pieghe procediamo esattamente alla stessa maniera con una mano umida, prendiamo l'impasto e lo tiriamo. vedete come l'impasto si stacca perfettamente dalla ciotola. chiudiamo ancora con un piatto e ancora 30 minuti di frigo. Ungiamo il tavolo con dell'olio extravergine di oliva e rovesciamo l'impasto. Entrambe le mani leggermente unte e ora chiudiamo l'impasto. guardate che bello l'impasto vedete bello idratato e pronto per andare a lievitare. ora lo trasferiamo all'interno di un contenitore leggermente unto con olio extravergine di oliva. ora chiudiamo il contenitore con un coperchio e lasciamo lievitare il nostro impasto a temperatura ambiente per un'ora. poi lo mettiamo in frigo per 24 ore. e dopo 24 ore di maturazione in frigo questo è il risultato del nostro impasto. ora dobbiamo infarinare il piano di lavoro per rovesciare l'impasto sul piano. è un impasto a dir poco meraviglioso. adesso lo dividiamo in due. spostiamo la prima metà. chiudiamo prima un impasto. il primo dei due panetti è pronto. lo spostiamo da un lato. riprendiamo l'altro impasto. vedete? e lo chiudiamo. mettiamo anche questo panetto. qui e a questo punto spolvero un pochino di farina sulla superficie. copro entrambi i panetti con un canovaccio e lascio raddoppiare entrambi di volume. in un'ora abbiamo ottenuto una bellissima lievitazione. adesso infariniamo per bene il piano di lavoro. perché dobbiamo spianare la prima delle due agnotte. l'abbondante farina anche sulla superficie. e ora spianiamo. ecco qui. la prima delle nostre pinze è pronta. la solleviamo, togliamo la farina in eccesso e la mettiamo su una teglia. e adesso procediamo esattamente allo stesso modo per spianare anche la seconda delle nostre pinze. e ora spianare anche la parte delle nostre pinze. la farina è rimasta intrappolata nelle bolle. vedete quante? anche questa è stesa. quindi ora la solleviamo. togliamo la farina in eccesso e la mettiamo in teglia. adesso mettiamo un pochino di olio extravergine di oliva. e do una precottura ad entrambe le pinze in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per 4-5 minuti. ecco la prima delle nostre pinze dopo la precottura. adesso dobbiamo procedere a mettere il pomodoro già condito con olio, sale e basilico. adesso ripeto la stessa cosa anche per l'altra pinza. e in forno entrambe le pinze in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per 5 minuti. e ora è il momento di aggiungere la mozzarella. io sto utilizzando mozzarella di bufala ma potete utilizzare anche il fior di latte. un filo d'olio e in forno per gli ultimi 3 minuti. ecco la prima delle nostre pinze appena sfornata. ora sforno anche l'altra. poi metto un pochino di basilico fresco e possiamo finalmente gustarla. e le mie pinze sono pronte per andare in tavola. sono davvero eccezionali. un impasto leggero, alveolato e digeribile. vi invito a provarle. bene anche per oggi è tutto. io spero che la mia pinza romana sia stata di vostro gradimento. e se così sarà attendo un vostro like. e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. a condividere le mie video ricette con i vostri amici. e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. un grande abbraccio a tutti voi da Rita vi invito a fare questo video. vi invito a fare questo video. Grazie.